Non si placa la polemica sul carnevale a quattro zampe che si svolgerà domani alle ore 15 in piazza Fosse Ardiatina a Giulianova. Si tratta di una manifestazione a tema carnevalesco che coinvolgerà i proprietari di cani e loro amici a quattro zampe, invitati a partecipare con maschere e travestimenti originali. Ma gli animalisti non ci stanno e da settimane protestano contro un'iniziativa ritenuta lesiva per il benessere degli animali, mentre di diverso avviso l'amministrazione comunale. Le polemiche sono state innescate da una nostra cittadina, da Giussi Branella, e da un'associazione a lei vicina. In realtà con la stessa Branella io stesso sono stato protagonista di una premiazione dove lei mi invitò nel 2019, ringraziò anche Marco Di Carlo ed Ivan Costantini, una manifestazione che avvenne a Piazza del Mare con una sfilata canina dove il tema era appunto quello del randaggismo, dell'evitare appunto l'abbandono degli animali e della salvaguardia degli animali che sono appunto lasciati nei canini. La stessa Branella, se non ricordo male, ha appoggiato Miss e Mister Dog quest'estate in Piazza del Mare e quindi con questo voglio dire che ci sono e ne vediamo continuamente di sfilate canino, di sfilate dei nostri amici a quattro zampe. L'occasione del Carnevale voleva portare una normalissima sfilata e il tema della sensibilizzazione sul randaggismo in piazza e tanto questo principio è stato progettato e ciò avverrà domani. Poi se entriamo nel tema del Carnevale non coincide volutamente con il Carnevale del 11 e del 13 di febbraio, approfitto per invitare la cittadinanza al nostro storico Carnevale giuliese proprio per non dare problemi con la musica ai nostri amici a quattro zampe. Sull'iniziativa è intervenuto anche il direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, Lucio Petrizi, che ha chiesto la revoca del patrocinio all'evento. Con l'Università abbiamo interloquito fino a ieri per i dettagli, per lo stand eccetera. L'accusa che hanno avuto è quella che le finalità del patrocinio hanno delle caratteristiche nello statuto dell'Università e probabilmente per non arrivare a beghe, a discussioni con le associazioni hanno preferito ritirarsi. Se no potrei mostrarle le mail con cui abbiamo interloquito fino a ieri mattina, ma comprendo che deve essere un giorno di festa e non devono esserci beghe di nessun genere.